tempesta se sei un vero campione perché aspettare just fight quello che tu dicevi ad alex secondo me dicevi anche a te stesso e se vuoi continuare a mentire a questa gente come menti a te stesso dillo io tempesta sono un impostore la linea del traguardo è just fight quando ci sarà una rissa reale a coppie che determinerà i nuovi campioni italiani di coppia a just fight noi spacchiamo in due e diventeremo i nuovi campioni di coppia ogni wrestler infatti dovrà essere pronto a sobbarcarsi da solo il peso dell'intera coppia il destino dell'intera coppia gli esseri umani hanno creato dio per avere qualcosa a cui ambire l'umanità anela al divino ed è normale fallire ma io come un novello prometeo porterò il fuoco all'umanità io e te just fight c'è il match tesoro in fondo se anche tu tentassi di seguire i miei passi c'è una cosa che non avrei mai la perfezione a just fight sarò nuovamente sul ring se questa volta sarei abbastanza uomo rappresentarti e affrontarmi faccia faccia se questa sera voglio concedere un'altra opportunità di confrontarsi con il gioiello del breast in italiano un uomo guidato da un ideale è vittualmente imbattibile non farmi finire quello che ho iniziato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti